Siamo qui con Luca Vigiani, allenatore dell'Under 17 Rosso Blu. Mister, dopo un inizio in salita dal punto di vista dei risultati, terminate il giorno d'andata al quarto posto. Sì, abbiamo raggiunto qualche risultato, abbiamo fatto un filotto verso metà del girone d'andata e da quel punto di vista siamo stati bravi a concretizzare quello che i ragazzi avevano già fatto vedere nelle partite precedenti. Siamo stati accompagnati poi appunto in questo filotto anche da risultati e ci ha permesso di migliorare la classifica. Appunto, quando riprenderete a gennaio arriverete con sette risultati utili consecutivi. A cosa è dovuta questa crescita? Di solito è il lavoro, questi ragazzi si stanno impegnando, stanno acquisendo sempre più conoscenze, e riescono a assimilarle bene e poi le rivediamo in campo nella domenica. È la cosa che più ci sta a cuore e che più conta.